Dobbiamo aspettarci sicuramente tanto impegno da parte nostra perché questo è un evento eccezionale che muove tutta una comunità e lo suo spirito che è fantastico. La forza di Sordeolo, dei suoi volontari e della sua comunità è veramente l'aggregazione per cercare di arrivare ad essere un centro della cultura popolare in questo periodo nel 2020, nell'estate 2020 e sicuramente con tanta negazione e tanto impegno ce la faremo.